Ciao a tutti ragazzi, bella lì e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con Course of Dead Gods Andiamo avanti, nell'ultimo video abbiamo finito il percorso quello dove c'era come boss finale Malok Pal, se non sbaglio Allora, esplorazioni in corso, Tana dell'orrore, che... Questa non l'avevo mai fatta, tra l'altro Neanch'una nella mia memoria Qua tra l'altro vi ricordo che ci sono le pozze velenose, così via, varie robe che rompono i coglioni Come armi cosa avevamo? Allora, fatemi controllare Allora, l'ammazza del cercatore, che ripetina un punto per cento di salute massima per ogni nemico ucciso Idem lo scudo, anche ha quale abilità di... L'arco Ok Vaffanculo, scusatemi Ah, merda, merda Beh Direi di... Sfruttare l'arco Nooo Ma che cazzo Quando fa questa vi allontanate, schivate Vedete Vedete Sì, l'arco è l'ideale contro questo boss Merda Cioè, vorrei andarci anche fisicamente, ma è rischioso comunque Eh, vaffanculo È rischioso andarci fisicamente con lei Quindi non vedo perché mi devo complicare la vita, sinceramente Nooo, non mi ha schivato ragazzi Ho premuto R2 Questo boss tra l'altro non mi ricordo se lo avevo già fatto vedere Comunque è abbastanza una rottura di coglioni Figa però Vedete, basta che mi muovo per schivare Cioè, non devo per forza premere R2 Poi dipende dalla situazione Cioè, dal posizionamento dei colpi che fanno Tipo, li devo schivare Ah, nooo Ok Tra l'altro non mi ricordavo che ci eravamo fermati prima del boss Allora, qua posso rimuovere una maledizione Questa non so cosa sia Manoscritto del Colosso 20% di danni basi per le armi pesanti Questa ragazzi, secondo voi, è considerata arma pesante? Arma principale è Mazza Però le armi pesanti solitamente sono qua Vabbè, io lo prendo, tanto spazio ne ho Questo Più 3 percezioni, più il 30% di danni agli attacchi velenosi Che no, no, no Preferisco offidare la divinità e prendere due punti di distrezza Io direi guarigione Però vedete, devo scegliere bene la strada Perché di qua andiamo a prendere gli attributi Se invece vado di qua, alla fontana di qua Abbiamo la possibilità di prendere due migliorie Il problema è che non ho molto oro E avremo un attributo da prendere Qua però due attributi Due istanze di attributi Vabbè, andiamo di qua dai La vita l'abbiamo ripristinata Allora Vediamo un attimo cosa ci aspetta Guardate, mi stavo sistemando Ero scomodissimo Forte sta roba Non serve a niente distruggere quelli Allora, andiamo qua No Questi qua sono nuovi ragazzi Non li ho mai incontrati Lo sapevo Che due coglioni che sono No No Ma l'ho schivato No Che palle che sono quei cosi I cazzoni qua Bene Ok Vediamo quanto oro ci dà 723 1598 Non male Quali erano nuovi, eh? Questo ve l'avevo letto, sì Teschi titanici Questi sono stronzi, eh? Che Ho visto che hanno Quell'attacco ad aria In più lanciano Quelle specie di boomerang Che vi inseguono Da stardi questi La mente è confusa, desidera il conflitto Il percorso è velato Il futuro è incerto Parte della mappa Si trasforma in stanze sconosciute Che Eh, questa qua è lenta di brutto E sta cazzo di mazza di merda No Ma, perché non l'ho colpito? Che palle Questa ha la vita dorata Ma no, non l'ho visto, perdonatemi ragazzi Ok Ma vuoi morire? Ok Finish Va bene, una persona è anche troppa vita, dai Una miglioria Vediamo cosa vale la pena migliorare Questo andrebbe a 49 più 21 Questo a 28 più 18 A destra c'è il vostro potere attuale dell'arma, vedete? A sinistra c'è la miglioria Allora, più 1% di danni base per ogni punto di destrezza Quasi quasi potenzierei questa Sì, costa anche 800, meno degli altri Qua tanto non so cosa mi aspetta in ogni caso Quindi facciamo questo Ah, poi ragazzi Il boss di fine area Non so chi sia Io qua non sono mai arrivato Ripeto, la strega l'avevo fatta lì Cazzo Ma Anche questi sono nuovi ragazzi Non le manico Cioè, sono la versione potenziata Che stronzi Che stronzi Questi sono cazzoni No Ok, facciamo fuori questo Che cagherà fuori le minchioni lì Ecco La cosa buona è che almeno quando cagherà fuori quei Quei roby là Quei parassiti là Se li uccidete Fanno l'esplosione E beccano danni anche gli altri Quindi Gioca anche un po' a vostro favore la cosa Buono Ma come mai non Per un attimo prima Mi è sembrato di non consumare resistenza Quando sparavo con l'arco Ma deve essere stata la mia impressione Sì, quali potete anche non accenderli Se volessi andare di qua Eh, ho fatto bene Più 15% di danni agli attacchi fulminanti Che non li abbiamo Più 3 di costituzione però Lo prendo Sì, qua possiamo anche evitare No Ma cazzo, ho schivato Boh Magari colpisci no No La trappola Non l'avevo vista Qua è pieno di trappole Ma l'avevo periato L'avevo parato Ma che merda Ma dai Ma porca la puttana merdosa Ma vuoi morire Sì, recupero vita sparando con l'arco Ma come mai recupero vita sparando con l'arco Perdonatemi Non capisco Ma ci entra con una delle due maledizioni Non riesco a capire Cioè, ok con questi Che ho appunto ripristino un percento di risulta Per ogni nemico ucciso Ma ogni colpo d'arco recuperavo la vita Perché? Mi sfugge qualcosa Lasciatemelo nei commenti ragazzi Non sto capendo perché con l'arco Con l'arco ogni colpo recuperavo la vita Ah, forse Sento qualcosa qua Più il 5% dei danni critici Inflitti ti curano Ecco perché Per questo Occhio d'aquila E appunto se fate così Questo è un danno critico Recuperate la vita Minchia, vale la pena appunto Usare sempre l'arco a sto punto È uguale a quella che ho io Solo che ha Più il 20% di probabilità Di infliggere danni venenosi Che non mi interessa Però Quasi quasi la prenderei Ho già l'arco che mi cura Cioè l'arco, oddio I danni critici Lì la reliquia Che mi permette di recuperare la vita Con i danni critici Ma sì, prendiamolo dai Merda Miglioria Sì, migliora Vabbè, lo chiamo migliora Miglioria alla fine È buono Recupero quattro punti ferita Ogni colpo scoccato Ragazzi Ogni colpo scoccato Recupero quattro punti ferita No, questi qua No Ho schivato Infatti Se non mi schivava Mi incazzavo Sembra una cazzata Ma è tutt'altro Che una cazzata Guardate Oh merda Questa l'ha fatta fuori Assolutamente Ma vai affanculo Tanta fatica Per recuperare vita Persa tutta Ma che cazzo Eh, stavolta Ho schivato No Bene Questo è un altro scudo Più forte 42 più 26 Invece che 42 Più 18 Poi c'ha 25% Di fratelli attivare Automaticamente Una parata Più 20% Di danni base Se l'arma principale È una mazza Più 15% Di danni Con esplosione Con esposizione Alla luce Lasciatemi nei commenti Cioè Quel 20 Li dice 20% Di danni base Se l'arma principale È una mazza Ma 20% Di danni base In più Per lo scudo O per tutte le armi Penso per lo scudo Comunque L'arma principale Che ho io È una mazza Effettivamente Alcuni adetti Di Sikal Sembrano essere stati Trasformati In ciò Che sembrerebbe Soltanto Una poltiglia di carne Ossa E sostanza Vicida Nei loro Riti mistici Hanno ingerito Pozioni velenose Che Per quanto Ne capisco Dovevano aiutare A comprendere I misteri Della divinità È stata promessa A loro La trasformazione Divina E se questo È un passo Di quella transizione Mi auguro Di non doverlo Mai fare Forse Lo chiamiamo Alok ragazzi Perché mi ha rotto Il cazzo Stomex Belzalok È un casino Da pronunciare Le trova divertenti Perché Tra tutte le creature Che vagano In questo tempio Ha fatto ben poco Per riportarle Al loro aspetto Fisico originale Le loro illusioni Di diventare Semili a divinità D'altra parte Sono state schiacciate Come insetti Macinati in un pastello Allora Dicevamo Prendiamo questo Bene Bene Vediamo un attimo Ragazzi Sono molto indeciso Quasi quasi potenzierei L'arco Potenziamo l'arco Attributi o arma Attributi Il boss poi Di questa zona qua Ripeto Non l'ho mai affrontato Non so chi sia No Ora Recupero 5 punti ferita A colpo scoccato Ma vai Affanculo Ma male Devi andare Affanculo Più tra di percezione Meno 20% Del costo Delle offerte Di sangue Buono Però Lo prendo Perché tanto Manca una ralicra Poi siamo pieni Trappola Doppia trappola Questi qua Sono proprio Degli stronzi Ah no No Quali più grossi Sono stronzi Questi Preso dentro Eh Devo Devo riattivare La resistenza Perché altrimenti È un problema Vedete L'arc Comodissimo Perché ci permette Di sparare I minchiottini Che caga fuori E appunto Farli espodere Vabbè Si può fare Anche con le armi Da mischia Però poi si rischia Di non fare in tempo Schivare Non da d'urto L'utilità Di distruggere Quei cose Non l'ho capita Cioè In questo caso Occhio Perché quelle lì Fanno veleno Vedete Le teste lì No Stavo schivando Malissimo Perdonatemi Ok Prendiamola Eventualmente Eventualmente Poi la sostituisco Più 200% Al tempo massimo Tra ogni grid kill Più 2 di percezione Occhio a questa Oh Ottimo Sapete che sono tentato Di prendere Sia destrezza Che salute Offro sangue Tanto 32 Ma si dai Prendiamo tutte e due Avrei potuto anche Prendere solo La salute Pagando in oro Però vabbè Tanto Siamo quasi arrivati Al boss Quindi A sto punto Reliquia O sconosciuto Va Proviamo Sconosciuto Taglia dello sciocco Più un'anima desidera Più diventa nera Rubare dai poteri antichi Lascia una macchia Ancora più scura Su chi è avido Ok I forzieri d'oro Adesso spargono corruzione Quando vengono aperti La quantità di oro Nei forzieri Aumenta Quindi quando apriamo I forzieri Adesso appunto Prendete un po' Di corruzione Ah ok Cazzo c'ho la vita dorata Porca puttana E l'arco comunque è una bomba Come cazzo La mazza lì ragazzi Mi sembra quasi più lenta Del martello Del martellone Vi giuro Mi sembra quasi più lenta Vediamo quanti soldi qua Veramente Sembra più lenta Cazzo Ma forse è effettivamente Più lenta Dell'arma a due mani Cazzo Ma sono avvenenato Porca puttana Ma dove mi sono avvenenato Ah vedete che mi dimentico Vedete quelle pozze di verdi Quelle nubi Lì vi avvenenate A volte non si vedono Vediamo chi è il campione Non penso di averlo mai affrontato E quindi potrei anche perdere Non conoscendo nel moveset No non l'ho mai fatto Ratiapu L'abominio Bello Bello ma Ok Bello ma Mi sa che è tosto Periato Estordito Avete visto Ancora Periato Mi sembra bello Come boss Cosa fa Ah cazzo Adesso mi avvelena pure Ma Che colpo Porca puttana E cerchiamo di sfruttare appunto La parata con lui Perché vedo che funziona bene Adesso mi avvelena appunto No Ma l'ho parato Dai Porca puttana Accendiamo questa Ma dai Ma l'avevo parato Ma anche prima L'avevo parato ragazzi A volte Sembra che la parata Non sia così precisa Come Ok Dai che ci siamo Non ho schivato Ok Mi ha rotto un po' i coglioni Ma vieni Tutto approvazione Trofeo Infatti non l'avevo mai fatto Bello Bel boss Bello Bello Leggibile Bello il moveset Bello Mi è piaciuto Bello E abbiamo finito Ho 131 teschi E 20 E' una religiata Quindi possiamo fare qualcosa Vediamo un attimo La La Ratiapula Bominio Bello Figo Anche esteticamente Torniamo nel Lave Principale Allora Adesso valutiamo un attimo Il da farsi Perché vorrei Almeno Potenziarmi E Vedere alcune cosette Nuove esplorazioni disponibili 3 Fatemi un secondo Arrivo Perdonatemi Allora Quindi Adesso Vediamo Di prendere qualcosa Soprattutto Quanto siamo Di video 25 minuti Quindi posso andare avanti Tranquillamente Io a questo punto Quasi quasi Restaurerei Un altare delle armi Restaura il terzo Altare delle armi 500 Eh sì 500 sta minchia 50% di probabilità Di ricevere armi principali rare Se non dici Sai ristorare Il terzo Altare Dai Ristoriamo Il terzo Altare Minchia Mille ne vuole Adesso Per l'ultimo Quarto Altare Sta minchia Vediamo un attimo Qua 100 anelli Di giada Gli attacchi caricati Scatenano un potente attacco Con scatto Infligendo danni A tutti i nemici Che incontrano Questa spada Di congiuntivius Qualsiasi attacco nemico Ti uccide immediatamente Che senso ha St'arma Deve avere per forza Poi Questo è il malus Qualsiasi attacco nemico Ti uccide immediatamente Cioè bisogna essere Dei mostri A schivare Parare Però avrà sicuramente Un vantaggio Prendiamo questa va Attaccando subito Dopo una parata riuscita Si innesca Un potente Contrattacco Bella Anche esteticamente Ma è l'arma di È la lancia di Sbelzalok Forse ho imparato A pronunciare Sbelzalok Che cazzo di nome Che metto Una volta i personaggi Veramente Allora Qua abbiamo No L'artiglio Non mi fa impazzire Mazza Daga cerimoniale E bombe Facciamo questo Macete Frusta Spinata Che tra l'altro Ha l'abilità Di indebolire I nemici Una volta colpiti Però ho gli attacchi caricati Mi raccomando E andiamo così Dai Ricerca del saper assoluto La ricerca dell'onnipotenza La ricerca dell'invulnerabilità Quasi quasi fare un evento Ragazzi Il desiderio è totale Quando le necessità di base Devono essere appagate Inizi con un piede Nella fossa Il sangue E l'oro Sono le tue uniche Fonte di sussistenza E qua Iniziamo con un punto ferita Quindi ci deve fare Molta attenzione Facciamo questa E facciamo l'altra Partiamo da l'oro La necropoli Salve Buonissimo Sì basta anche un colpo caricato Vedete sì Dovete colpirlo però Dicevo basta un colpo caricato Dopo indebolito E gli fate più danni Non dovete per forza Dagliani e due Ma almeno posso schivarlo? Non ho capito se l'ho schivato No Eh buono Non sembra Ma indebolire i nemici Ci offre di grandi vantaggi I danni I danni proiettili Aumentano in base Alla distanza percorsa Prima dell'impatto Fino a più 50 Non capisco cosa voglia dire Vabbè a parte che i pugnali Non mi piacciono Quindi fuori dal cazzo Trappola Cioè trappole e Devo usare anche la lancia La lancia è bella veloce Avete visto? Due colpi di lancia Dopo averli indeboliti E muoiono Almeno questi Dovete capire Anche hanno le armi Quanti danni Quanti danni fanno E così via Studiarvi le cose Trappola E andiamo di qua Comunque Indiebolite sempre prima Almeno Buono Eh t'ho fregato Merda Fine 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 Più tal di destrezza Prendiamolo Let's go Attributi Vediamo un po' Ok No, ho sbagliato Albero del cazzo Ci ho preso la mano comunque a giocare Solo alcune armi non mi trovo bene Le accette da lancio, i coltelli da lancio Non mi trovo Ma anche lì è questione appunto di farci pratica Salve Ho azzardato una cosa molto Ok La frusta è una figata, a me piace un botto Uccidere un nemico incendiato ripestino all'1% dell'assolute massima Non è male ma non lo prendo e lo offro alle divinità Perché tanto difficilmente incendio i nemici io Quindi offriamolo alle divinità Bene Ho 2143 oro Quindi prendiamo sia Più 250 di salute massima E più 10% di danni Ottimo Attributi Quanto siamo, perdonate 33 minuti Eh questo qua è bello Comunque mi piace molto E sinceramente Vorrei anche platinarlo Solo che ci sono I boss da fare più volte no damage E' una roba che mi rompe quanto il cazzo Sinceramente Cioè è una roba che sinceramente io Dal mio punto di vista Toglierei nei videogiochi Almeno Per quanto riguarda il discorso trofeistico Poi se uno si vuole fare no damage È liberissimo di farlo per sua scelta Ok Occhio alla pozza velenosa lì Ok ok io ho rischiato arrivederci sì questi qua non sono neanche tanto forti dice la trappola no sto sbagliando bene arco ma sinceramente sono indeciso ma no teniamo la lancia dai teniamo la lancia anzi adesso la uso un po bastardo però non l'avevo manco visto sì vabbè questo è molto buono meno 20 per cento del costo delle offerte d'oro allora vediamo ho 1700 e quindi perché non prendere questo prendiamo sia questo ok reliquia o miglioria allora qua è differente perché vabbè oddio ci sarebbe miglioria intanto ne posso prendere solo una di miglioria vedete ragazzi o questa o l'altra perché se prendo questa mi precludo il percorso sinistra quindi preferisco prendere la reliquia la miglioria ed eventualmente scusate ed eventualmente gli attributi però sti cazzo di alberi rompono un po i coglioni perdonatemi un secondo ok o di qua o di là buono più 66 per cento a tutti gli effetti di guarigione ma si prendiamolo per adesso più 200 per cento al tempo massimo tra ogni grid kill quant'è lì che abbiamo ma si prendiamolo per adesso ma l'ho parato ragazzi l'avevo parato boh posso visto mare io non so non mi sembrava di aver sbagliato la tempistica ma evidentemente si o magari alcuni colpi non si possono parare più 8 al singolo attributo più alto costituzione destrezza percezione quindi andrebbe a destrezza più 3 di percezione più 4 di destrezza la parte d'oro rimuovono 15 punti di corruzione prendiamo questo così spendono l'oro miglioria se tutto va bene dovrei avere il tempo anche di fare il boss merda merda questo non me l'aspettavo eh quanto stronza vostra mamma indeboliamolo ok lo sapevo porca puttana merda non ci voleva questo dovevo prima indebolirlo sono stato un coglione no non ho tenuto occhio alla resistenza male era zero vi ricordo che è sempre meglio ottenere almeno un punto resistenza o due vedo un cazzo miglioria miglioria ripristina un per cento di assoluta massima per ogni nemico ucciso ottimo io migliorerei questa tra l'altro la frusta indebolisce anche i boss e se appunto gli attacchi caricati indeboliscono i nemici dovrebbero funzionare anche quei boss tanto dopo lo proviamo attributi e lo vediamo subito ah questa mi sta sul cazzo la corruzione ora aumenta passivamente nel tempo attraversare una porta non provoca più corruzione quindi qua devo un attimo velocizzare il tutto devo un attimo muovermi devo vedere anche di quanto aumenta di due punti due punti di corruzione ogni tot non ho schivato sono un coglione sono è che devo stare attento c'è pure il minchione la no eh non posso più schivare ok anche questo lo offro alla divinità perchè mi voglio tenere la fusta il problema è che non ho molta vita per fare il boss eh usiamo sta cazzo di lancia va un colpo figa dopo averlo vedete un colpo cazzo un colpo con loro perchè avevano meno vita di questi bene facciamo più di 150 l'assoluta massima e ora ragazzi facciamoci il campione sarà quello sarà quello ah che palle è che adesso non ho l'arco questa mi rompi i coglioni però vedete che si indebolisce si però dobbiamo stare attenti e non fare le cazzate si indebolisce anche lei come potete vedere eh però devo stare a fare attenzione buono ma quando fa questi caschi qua mi caga un po' il cazzo buono sono un coglione perchè tra l'altro la tiro a me quando colpisco con la frusta non so se l'avete notato ma vai a fare i boss vedete chi viene verso di voi male ho consumato tutta la resistenza no dovevo schivare tra l'altro colpendo la rilascia e minchia di così la ok fatto sì questa è decisamente meglio farla con armi mmm dalla distanza tipo l'arco questo lo prendo più che altro perchè mi da più tre alla destrezza ma lo farei sostituire no 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 fermano le divinità beh direi ovviamente senza ne che pensarci due volte guarigione le grotte di cristallo perfetto allora oro e poi cazzo vorrei fare il cavo che minchia che il cavo se prendete danni appunto perdete le ricompense qua sta l'abbiamo già vista le radici viventi hanno maggiore velocità di attacco e precisione faccio questa stanza e poi magari mi fermo vediamo un attimo fuori dai coglioni questi sono un problema questi qua sono dei cagacazzo no ma vuoi morire occhio alle pozze verenose me ne sono accorto adesso tra l'altro vedete non si vedono se non avete la torcia eh mmm t'ho visto è stronzo proviamo una lancia merda puttana facciamo questo facciamo questo questo ha tanta vita porca la troia l'esistenza non è consumata troppo vabbè no non lui vabbè va bene lo stesso ah comunque arriva disco io lo preferisco ad edis ma ma di tanto non di poco lo preferisco molto è meno caotico il gameplay mi sembra anche sinceramente un filino migliore se devo essere sincero dal mio punto di vista ovviamente merda eh ma che falle ste trappole oh stai scassando il cazzo eh quanta cazzo di vita c'ha ecco recuperate il percento di salute massimo quando un nemico viene ucciso dall'ambiente e più due alla costituzione Potrei togliere questo Fatemi vedere questo Più sei la percezione Mettiamolo qua va Ok a breve mi fermo ragazzi Facciamoci giusto Il cavo Sperando di riuscire a farlo L'arma ideale per fare il cavo Appunto è avere l'arco Ah che palle Eh niente Puttana troia Prendete un danno e niente Perdete le ricompense Poi ho schiacciato sto cazzo di merda Non me l'ha presa Dai ci fermiamo qua Salvo nella prossima stanza Riprendiamo la prossima volta Migliori a radicchio a oro Ciao salvataggio vero Perfetto Ok leggiamo questo Qui vaga una creatura particolarmente malvagia Che gli dei del miracolo hanno contribuito a creare E gli dei del dolore hanno perfezionato Questo tempio è stato costruito per facilitare il baratto tra le divinità e i chatak Al fine di ottenere i poteri divini in cambio di oro e devozione Ahimè quando i chatak acquisirono questi doni iniziarono a massacrare e sacrificare le tribù di Mitrofe Una setta di necrofori raccolse i cadaveri per la sepoltura Iniziarono ad adorare Xbel Salok Questo cazzo di nome di merda E a prosperare nella sua pestilenza Quando il dio della morte conquistò il tempio lo colsero a braccia aperte Sta diventando sempre più difficile odiare i più miserabili di questi spiriti maligni Non staranno semplicemente obbedendo alla loro natura mortale Mentre rimango qui uccidendo per sopravvivere E' come se fossero diventati i miei simili Comunque no veramente Una cosa che mi fa incazzare il gioco ragazzi sono i suoi autotitoli Sarò pignolo ma sono microscopici E lo spazio effettivo c'era Per farli un pochettino più grandi Comunque Salviamo Bene ragazzi Io spero che questo video di Course of the Dead Gods vi sia piaciuto E vi possa essere utile Alla prossima Bella lì